Buongiorno a tutti e ben ritrovati lunedì 20 gennaio, nuovo appuntamento con Good Morning Milano, ripartiamo la seconda settimana di programmazione di questo nuovo anno e ricominciamo con un ospite che ritorna a trovarci, ritorna a trovarci a pochi giorni dal suo compleanno ma perché il suo compleanno o mai la tradizione diventa un momento in cui conoscere la sua arte stiamo parlando di Eva Amos, buongiorno Eva, ben ritornata buongiorno Fabio non ti faccio ancora gli auguri perché mancano ancora presto non ti fanno molta fortuna a farli prima anche in Russia anche in Russia, perfetto al tuo fianco, grazie di avercelo portato, siamo presenti da 24 finalmente in studio Guino Andrea Pautasso, uno scrittore, un critico d'arte che da un po' segui il lavoro di Eva e ogni tanto le nostre strade si incrociano è stata una scoperta, un incontro entusiasmante perché Eva mi ha fatto scoprire anche questo suo, oltre a organizzare mostre, lei è anche un talento e dipinge e sono i momenti in cui ci si può ritrovare ed è un'occasione anche non solo per festeggiare un compleanno ma per scoprire appunto opere nuove grava appunto che Eva con Assa stessa hai fatto quante mostre hai fatto ormai in questi anni? più o meno, un conto molto non so, una ventina una ventina una ventina una ventina dalla famosissima Damas Nias ne ha appena uscita appena finita una ambientati a Mars ma ogni tanto giustamente tiri fuori anche il tuo arsenale, la tua arte almeno una volta all'anno non essere solo vittorica perché tu sei un'artista un po' a tutto tonno, suoi la chitarra canzi, benissimo ti appareggio, mi invito sempre a venire alle esposizioni e alle mostre che la Zeta Eva perché poi non si sa com'è, è come in spiaggia, salta fuori la chitarra e poi lei canta quindi io però dico venite sempre perché è un bellissimo momento è un artista tutto tondo come dire infatti, però hai fatto questo fatto, sono 4 anni che fai questa cosa molto carina per cui la scusa della festa del tuo compleanno, la scusa del tuo compleanno per invece fare la tua personale, esporre e far conoscere alcune delle altre, no? no, secondo me è anche una bella idea di ritrovarsi tutti insieme, tutti gli amici artisti perché se fai un compleanno, cioè una festa intima, non puoi invitare tutti invece se fai la mostra d'arte, una inaugurazione, cioè puoi invitare tutte le persone possono venire tutti, anche senza magari invito se tu metti una locandina, cioè vedono tutti ma forse non tutti sanno che questo è il giorno del mio compleanno però sono contenta di vedere tutti perché appunto e poi diciamo che anche a Milano manca un'occasione di incontro per gli artisti come dire, luoghi e spazi dove si possono incontrare liberamente gli artisti nel senso che una volta c'erano i caffè letterari, i locali, come dire, anche le gallerie organizzavano ma erano sempre un po' dei circoli chiusi, distretti quindi bisognerebbe che Milano aprisse di più al mondo dell'arte in questo senso anche più ludico, più creativo no, no, Guido, non è un po' un paradosso, cioè tantissimi artisti ci sono ormai a Milano sempre più artisti, l'arte ormai l'abbiamo tutti i giorni sul nostro smartphone con Instagram però appunto si pratica poi a incontrarsi e ma questo è il gioco anche dell'arte perché non è detto che molti artisti abbiano piacere a confrontarsi con gli altri una mostra collettiva è facile da organizzare perché poi raccoglie molte persone ma quanti artisti sono disposti a mettersi in gioco? questo è il bello anche delle mostre che organizzavano è che c'è un tema e poi ci ritroviamo tutti a confrontare con quadri diversi non c'è uno stile che accomuna l'insieme è l'insieme che fa la mostra per cui ci si può confrontare tra figurativo, astratto, il colore in più l'assenza del colore un'opera che può essere polimaterica come una scultura il dipinto, ecco, la performance anche perché questo è il bello delle mostre di Eva se cosa vedrai invece la tua personale? se cosa espronai? sono in particolare a Locardina sono in particolare a Locardina si, un particolare di Frida che la mostra si intitola Legends e quindi la maggior parte sono i ritratti tutti sono i ritratti delle persone famose e questo titolo arriva da una famosissima citazione di Freddie Mercury che io stimo moltissimo, lo adoro che lui diceva che non voglio diventare la rock star voglio essere la leggenda e quindi questo per me, anche per me, questo è un moto a me piace tantissimo quello che ha detto che secondo me è una bella spunta il generale alto è la cosa sempre migliore in questo caso sì, sì, sì e poi Freddie Mercury diciamo che è un'icona prima il tema, come dire, Legends lega anche Frida Kahlo altri artisti e non, come dire, non siamo più alla Marilyn di Warhol come dire, è un gioco facile diciamo che si va a cercare anche un artista come Freddie Mercury ecco, come dire, che è Gabriele D'Annunzio ci sono opere esposte e create da Eva che raccontano anche un certo modo di vedere la cultura ecco, non è solo un'opera pop non è più pop esatto non è più solo pop è un mero consumo, no, dell'immagine invece qua si fa un gioco anche un po' più intellettuale come dire perché infatti è sempre più interessante vedere anche come l'immagine di Carmelo, se o sì si è abituati alla Marilyn di quella Marilyn non un'altra quella si stiamo a dire c'è che va e quel c'è che va non un altro invece adesso le icone cambiano comunque c'è Freddie può essere quello può essere Godieva può essere Pedro D'Annunzio ha un'altra imparatura soprattutto c'è una cosa che lei usa molto il colore il pennello mentre parliamo di le icone pop di World sono opere abbastanza statiche lei riesce a rendere anche un ritratto dinamico e questo è un gioco molto divertente a me piace il rapporto che poi si crea con questo dinamismo perché mi ricorda ovviamente alla lontana comunque il futurismo dove c'era tutta la dinamicità e poi arrivano i surrealisti che scompongono le figure le immagini rubando un po' del come dire lavorando sull'inconscio ma rubando qualcosa dai cubisti dai futuristi tutte le avanguardie hanno giocato su questo punto di rottura e con Eva si crea appunto si ritorna un po' a giocare con il colore come movimento mentre la staticità di un World per esempio era fisica statica cioè non c'era non c'era movimento era l'attimo colto come un memento mori come dire ricordiamo anche l'immagine dell'incidente crash come dire ti riportano a quel fermo immagine che è quasi fotografico come dire anzi è fotografico perché era poi un riporto su tela senza come dire c'era quel lavoro mentre lei dipinge in un altro modo come dire dando cercando di dare alla pennellata all'opera quella dimensione che è un po' più appunto come dicevo intellettuale quanto è un altro video per un artista cioè eva di riposo ce l'ha tanto si vedono due pennellate capisci che è un quadro di evamos e quanto è importante e quanto poi è pericoloso questa volta un artista beh allora prima di tutto bisogna anche tenere conto che oggi l'artista è un citrazione fondamentalmente non perché mancano le idee come dire ma perché è più semplice fare un'immagine che altri hanno già nella mente come dire per cui l'originalità sta proprio come sviluppi questa immagine come la rendi al pubblico perché in realtà io dico sempre che un quadro quando uno compra un quadro ha due motivi fondamentali o lo compra per business interesse vendita come dire lo compra lo mette lì lo lascia è un investimento e poi fai affare come dire e questo è un primo step e il gusto non c'è non c'è vai a come dire a cataloghi d'astica l'altro invece è mi piace un quadro lo compro ecco quello è l'aspetto che cambia io ho sentito anche persone che dicevano quel quadro sta bene a casa mia per quel divano grigio come dire ecco però per un critico è una tragedia come dire per l'artista pure perché comunque si sente anche svilito in certi casi l'artista di che è un attimo siamo diventati siamo arrivati a un livello così però purtroppo la nostra società prima lo dicevi tu noi l'arte la facciamo col telefonino come dire la facciamo la distribuiamo la consumiamo col telefonino è un salto il salto è quello per questo se tu riesci a impattare nel pubblico con un'immagine allora lì fa la differenza come dire però la differenza la fa sempre quello che compra il quadro il consumatore critico in realtà quello che bisogna dagli anni 60 ci raccontano sta storia che il consumatore critico scegli una pasta rispetto a un'altra come dire è la stessa cosa vale per un'opera un latte in polvere rispetto a un'altra però questo nulla toglie all'opera d'arte come dire ma alla grafica pubblicitaria al libro quante persone comprano un libro affidando se è un libraio ma poi lo guardano e lo comprano perché ha una bella copertina è lo stesso discorso come dire è un po' svilente per l'artista ma l'artista si presta anche a giocare sull'immagine sul colore sul rapporto e lei riesce a fare questo lavoro di dare quel tocco appunto che a me piace di intellettualità di ricerca grazie Guido grazie mille Eva ricordiamo un tratto inconfondibile del tuo molto molto colorato multicolor mi piace sempre ricordare un po' da dove nasce questa tua passione per il colore però no? allora in realtà questo questo vario pinto nasce dalla dalla fotografia in bianco nero perché io quando ho iniziato a fare questi giochi con i colori io prendevo la fotografia in bianco nero apposta perché mi dava più fantasie cioè mi accendeva la fantasie io volevo colorare ti condizionava esatto lei era neutra e tu e invece la fotografia a colori mi confonde cioè all'inizio io non riuscivo cioè io vedevo giallo allora giocavo con giallo con altre sfumature di non so mettevo rosa cioè grigio ok però quando c'è solo due colori bianco e nero e altre sfumature lì puoi giocare con tutti i colori chi vuoi quindi da lì quando è che hai iniziato non ti ricordi quello che avevo detto eh sì sei anni fa ho iniziato a fare questo esperimento qual è stata la tua prima opera qual è stata la primissima anzi il primo esperimento non è che mi siamo magari che l'hai fatta la prima volta magari anche dopo non lo so il primo esperimento che hai fatto eh il primo esperimento esperimento ho fatto appunto sei anni fa quando mi sono trasferita in Italia a Saronno ricordiamo sempre senza nulla toglia con i Saronno sì viviamo se ne eravate in Italia nonostante sono andata a vivere a Saronno che insomma senza salutare amici di Saronno ho iniziato a a dipingere con pastello con pastello però il pastello non mi dava questa accessibilità dei colori cioè non erano comunque un po' secchi cioè spenti forse spenti un po' freddo freddo diciamo ma sai che ci sono antipastello ma ci sono anche i pastelli quelli florescenti cioè sembrano accendenti ma in realtà è la stessa cosa poi soprattutto è la materia e il caricare è sì 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 è un gessetto tipo è poco più che un gessetto esatto e quindi e quindi sono arrivata giustamente a acrilico e olio che sono due materiali che ti permettono di avere il massimo cioè massima accessibilità di facilità del colore sono delle foto i tuoi quali sono di un acceso pazzesco uno dice ok ciò è poco basta avere il filtro giusto su Instagram basta avere il filtro giusto sull'iPhone magari sono ancora più colorati sì quando le esplosioni di colore è come se fossero illuminati sì quanto è per te importante quanti oi passi ha dove hai il colore giusto la luminosità mi sarebbe a dire devi comunque fare un po' di strati cioè non puoi limitarti solo cioè fai uno strato che è finito no cioè devi fare più strati e devi giocare lì con 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 i colori colori scuri i colori diciamo mezzo scuri e lì riesci a mettere con contrasto devi giocare con contrasto quindi chiaro scuro cioè se metti sulla su oltremare un giallo florescente c'è il top capito lì cioè ti dà ancora più accessibilità perché c'è il contrasto con contrasto riesci a giocare capito e questo è il bello che appunto si ricollega anche al concetto che l'artista si lavora su un'immagine nota ma sperimenta questo è quello che io dico sempre che bisogna andare oltre al fare il quadro perché fare il quadro come dicono in tanti ma questa è arte sì ma lo so fare anch'io beh insomma fate attenzione questa riduzione semplice non è proprio la stessa matrice che dovrebbe avere l'artista dentro ecco come dire se partiamo da chi sono gli artisti di oggi chi sono dipende cosa intendiamo no nell'accezione tecnica di artista ecco questo è un un gioco si dovrebbe fare un gioco ad esclusione no in questo caso per cui diciamo che i grandi nomi che fanno arte e soprattutto bisogna anche pensare che portiamo l'arte italiana nel mondo allora si ragiona su Maurizio Cattelan che possa piacere o non piacere parliamo anche di artisti come dire che hanno comunque una base con grandi gallerie che consentono di fare anche provocazioni al di là dell'arte il gioco il gioco concettuale di fare arte oggi è anche quella di fare pubblicità come dire e la promozione di se stessi come artisti è un gioco che diventa poi però bisogna anche trovare quell'artista che fa un lavoro critico per esempio io cito adesso il mio amico Marco Nereo Rotelli per esempio ha fatto una mostra di recente a Portofino che è un'installazione un'installazione poetica per la difesa del mare per tutelare l'ambiente come dire ha creato una sfera d'acciaio poetica e dove lui raccoglie i suoi segni versi simboli come dire non si era perso un po' questa caratteristica dell'arte di essere invece denuncia di proprio per questo citavo Rotelli perché è uno dei pochi che oggi fa ancora un lavoro di denuncia di stimolo ecco questa è una cosa che l'artista dovrebbe anche un po' provare perché è facile provocare ma poi andare a toccare la sensibilità e il cuore è un'altra cosa per provocare non è più altro ma è basta no soprattutto l'hanno fatto in tanti è un gioco che hanno fatto in tanti perché come dire il dadaismo ci ha insegnato ad andare contro per cui basta è una delle punte massime ma come dire l'artista dovrebbe avere uno stimolo pensiamo al taglio di Lucio Fontana era un momento di rottura quello dell'arte c'è un salto categorico come dire il muro bianco di Manzoni ti insegna che finisce un periodo del colore della storia dell'arte per fare quel passaggio che poi è il concettuale come dire stiamo parlando di un modo di fare arte che è proprio quell'establishment che adesso è diventato museale che all'inizio non era compreso per cui è come dire ritorniamo al concetto di intellettualità da che parte si andrà i suoi più concettualizzati troppo finivano non avere niente secondo me si sta un po' ritornando si sta dividendo completamente quello che così ritorniamo a Eva è che come lei organizza queste mostre dove si confrontano gli artisti gli artisti portano il loro sapere come dire la loro pittura ecco soprattutto io adesso parlo di pittura come dire non solo come gesto creativo per cui diciamo sì un ritorno c'è e c'è anche un ritorno al figurativo c'è anche una riscoperta di un astratto che non è solo quello delle gallerie dei musei di Pollock dei grandi astrattisti come dire della pittura d'azione ci sono si riscoprono ma si reinventano come dire pensiamo a Andrea per esempio che è uno dei miei pupilli come dire che io considero un grande artista per la sua creatività ecco Andrea è per chi fa ricerca anche lavorando col colore e la gastronomia ecco anche quello è un aspetto che interessa interessa a chi ha uno scopo di vedere l'arte come qualcosa appunto di geniale di creativo di ricerca di sperimentazione e è quello che il tema dovremmo dovremmo ripensare l'arte perché è cambiato il nostro modo di guardare l'arte ma soprattutto gli artisti hanno anche cambiato il loro modo di fare arte adesso il telefonino è una formula così come una volta si diceva che la video art avrebbe soppiantato il quadro invece c'è le tele resistono i colori resistono e vamos è una di queste dimostrazioni grazie ricordiamo Eva allora l'appuntamento di mercoledì dacci un po' le combinate gli orari cosa vedremo all'interno di questa personale allora appuntamento è il 22 gennaio che è il mio compleanno dalle ore 18 ma potete venire anche verso le 7 perché so che molti finiscono a lavorare alle 18 facciamo questo vernissage insieme con te con Fabio spero di esserci con Guido spero di esserci con guido con guido con guido tra l'altro io ho già ordinato la torta e vi aspetto circa 10 opere che saranno tra l'altro fatte con con le tecniche diverse porto anche le opere fatte con cioccolato dopo ti faccio vedere e con caffè e altri sono classiche acrilico e olio e ci troviamo a via private Bernabò Visconti 13 spazio Arse e dalle ore 18 mercoledì questo è mercoledì mercoledì tra due giorni dalle ore 18 quindi potete venire ovviamente anche le 19 il club sarà intorno a 19.30 diciamo il cuore della si esatto intorno a quell'ora ci sarà appunto anche la torta da rete possono dirlo ufficialmente si tranquillamente tante opere più di una decina di opere di Eramos tra cui qualcuna proprio nuova fatta si ci saranno circa tre vabbè tre opere tre opere c'è un'opera che ha tre giorni di vita che è una più vernisagio di cosa diciamo che vernisagio si quindi il profumo di vernice questo lo potete farvi però non si può toccare giustamente già lo si può toccare di solito ma quello sicuramente no? e quindi l'opera esatto e quindi dicevo questa opera che ha tre giorni di vita è il retratto di Freddie Mercury nella sua posa storica non a caso parliamo di leggende infatti chi sono queste leggende che ti ispirano? perché ti ispirano? cos'hanno queste leggende? allora se parliamo esatto se parliamo di Freddi perché mi ispira così tanto questo mito perché lui è un artista internazionale lui è di Iran e ha fatto una carriera della madonna cioè ha spaccato tutto il mondo della musica di tutti i tempi diciamo la verità e non aveva mai paura di andare avanti è andato anche contro i suoi genitori perché i genitori erano sicuramente contro quello che faceva cioè lui si è inventato il personaggio il pseudonimo il nome d'arte che il padre era completamente essere in questo invece la mamma e vamos ha sempre supportato sì sì per fortuna i miei genitori mi sopportano e sono sono molto fortunata si si ti sopportano e sono fortunata perché i miei genitori sono artisti entrambi quindi io la mia prima personale sul tappeto appeso sul muro nei tempi di riunione sovietica e la mia mamma appeso i polli si in casa si di vedere la sua arte sulle pareti non mancava la paura di esporre no no va bene allora stiamo in chiusura ricordiamo quindi il 22 gennaio alle ore 18 si allo spazio arsar space di Svella Povis Conti 13 la personale possiamo vedere l'occardina dell'ultima volta legends di Eva Amos eccola qui Eva qualche altra indicazione per chi deve venire no certo tutto no e all'evento aperto al pubblico potete venire tranquillamente vi aspettiamo numerosi come dire spero di esserci così vai ci potete raccontare meglio dal vivo anche un po' dalle due indicazioni su chi cosa è l'arte di Eva Amos è facile pensare ancora di più i lavori che fanno vediamo giupito diciamo un po' quest'anno sono arrivati quanti libri ormai 18 18 libri che spazio davvero su tutto ciò diciamo che io la mia ricerca si concentra sul futurismo molto sul lavoro di Piero Manzoni ma come dire non si non si ferma si allarga anche altri ambiti infatti per aver capito un po' come guardare e da che parte guardare il nuovo mondo dell'arte che suona sempre più ci sente più gente va bene grazie a voi ti ringrazio tantissimo grazie mille per essere qui con noi oggi grazie mille anche a voi per averci seguito noi ci vediamo mercoledì con una puntata di colmone in Milano sempre qua su Milano con i news grazie mille arrivederci a presto grazie mille grazie mille grazie mille